Romagna 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 In festa Nelle borgate Se il suono Delle tue ballate E che ha trovato amore D'ospitalità Con il cuore in mano Primo poi ritornerà Romagna Romagna paesana Sei entrata nel duemila Romagna Di tutti Romagna Nostana C'è un mondo Che ti ama Romagna 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 Nel mio cuore La fisarmonica di Massimo Fabiani Buongiorno amici di Romagna in festa Eccoci qua a una nuova puntata del nostro programma E questa volta siamo a Dogana La bellissima cornice del parco Ausa Appunto di Dogana Dove c'è la festa dei lavoratori E la festa del primo maggio La festa dei lavoratori Perché è una festa particolare Perché si ricorda le battaglie operai In particolare quelle che erano volte alla conquista Di un diritto preciso Che era quello dell'orario di lavoro quotidiano Fissato in notonore E niente Quindi oggi è una festa particolarmente importante E quindi direi subito Di cominciare a festeggiare Via con un bel brano di musica Con l'orchestra La nuova Romagna full A le tastiere rosauro bianchi E' partito il planiletto Giuliano Alessandrini E' partito il planiletto Giuliano Alessandrini C'è via il Eeeh! Olèh! Il valser del pescatore! Grazie mille! Intanto salutiamo anche l'amico Tiziano! Ciao Tizio! Grande! Ciao carissima Sabrina, grazie del tuo saluto e grazie di essere qua con la vostra orchestra in questo bellissimo parco. Ma andiamo a cercare un attimo i capo orchestra della Nuova Romagna Folk e sentiamo cosa ci dicono. Grazie! 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 Buongiorno a tutti Gian Piero, complimenti ballerini Molto bene, si continua con la polca Diabolica Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti